e molti si fermano e guardano la casa la cosa che piace di meno a quelli a cui non piace è che alta tre piani allora la casa è stata pensata progettata e costruita pensando a due cose sostanzialmente la vista meravigliosa e l'utilizzo del sole che qua il sole, la tantissimo sole che c'è che abbiamo voluto usare come principale fonte di energia quindi la casa come vedete ha la facciata sud ed è molto vetrata per raccogliere l'energia solare mentre le altre tre facciate sono molto ben isolate e più chiuse e in legno e una cosa che ha fatto molto scandalo che tutti dicono molto che è brutta qua in Val d'Aosta è che è alta tre piani, è una torretta a noi piace ma è fatta così perché per ragioni urbanistiche di distanze dai confini obbligatori se noi volevamo avere una superficie vetrata che prendesse il sole sempre con quella casa lì davanti dovevamo stare lontano e quindi non riuscivamo a fare una casa più bassa e quindi potendo noi l'abbiamo costruita così perché in questo modo ha la massima esposizione solare cioè tutti gli ambienti abitati al piano terra il soggiorno e la cucina al primo piano due camere, al secondo piano una camera hanno la loro quantità di sole infatti anche in pieno inverno senza riscaldamento quando c'è il sole la casa non ha un impianto di riscaldamento noi di solito ci interessa molto la parte della tradizione negli aspetti dell'intelligenza costruttiva, dell'uso dei materiali, del clima perché se noi guardiamo le case spessissimo sono molto intelligenti quasi sempre, anzi sempre guardano il sole, lo usano, si proteggono dal sole, dalla pioggia, lo usano questa cosa si è persa in inverno cinque persone vivono qua però c'è un alberghetto che funziona tantissimo ecco da qui vedi la casa e si vede bene dalla piazza del paese ah ok summertime o in estate o durante le vacanze di natale c'è, è abbastanza pieno e la casa guarda, guarda di qua vedi più di metà delle case sono ancora abbandonate quando l'agricoltura è stata un po' abbandonata la vita di montagna nel novecento diciamo vedi anche qua che c'è quello spazio che ti dicevo, quasi tutte le case hanno questo portico quando abbiamo fatto la casa alla fine il portico dove c'è il tavolo è stato un po' ispirato se si può dire anche da questi spazi che proteggono dal vento e però ti fanno stare all'aperto al sole al sole e al vento per capire è un posto che è molto freddo anche il sole fa questa funzione ma perché qui abbiamo un'esposizione solare meravigliosa, fantastica, quasi unica qua il giorno più corto dell'anno che è il 21 dicembre il sole sorge prima delle nove e tramonta sulla casa verso le quattro e mezza del pomeriggio è il paese pieno di case abbandonate costruire nuovo quando hai un sacco da recuperare sappiamo che però se è possibile è possibile è una scelta politica diciamo costa di più comprare una casa e metterla a posto che non costruire una nuova costa di più e è più difficile isolarla bene in una casa vecchia anche ben fatta ristrutturata magari spendi duemila euro all'anno di riscaldamento quella casa lì zero anche questo edificio di roccato sembra quasi che sia un po' non è detto ma una copia antica con le finestre verso il sole l'altra cosa è che tutto il legno con cui è costruita la casa anche la struttura è l'arice tagliato nei boschi qui intorno sono tutti quelli lì tutti quelli lì sono tutti larici tutto quel bosco di quella montagna là è l'arice le mura del muri che sono tutti con il legno ho costruito il legno isolati con fibra di legno sono 40 centimetri così ed è rivestita sempre in legno qui vedi la struttura questa è la struttura la struttura qua dentro è uguale a questa cioè è fatta ballon frame si chiama ma tutta questa parete è fatta con la struttura come questa ma con l'isolante come così fa un muro grosso così ok so the windows though are also a heat loss no I mean the heat comes in but it can also be a lot no perché sono vetri tripli vetri so three glass uno due tre mentre questo è a quattro vetri and what is that called? PCM phase change material questi sono quelli che raccolgono il sole poi lo rilasciano c'è fuori questo zigo zago non so questo pannellino che è fatto in modo che d'estate quando il sole è alto lo manda fuori e d'inverno quando il sole è basso lo tira dentro wow e poi all'interno ci sono dei pannelli pieni di un materiale dei sali minerali che raccolgono il caldo e poi lo rilasciano inside the window? si tutto inside the window sono quattro strati so you see this side there's very little glass yes perché è nord no sun non c'è sole non c'è sole e quindi è solo per vedere fuori quindi qua entrando c'è questa stanzetta piccola che serve per non far entrare il freddo e per lasciare tutti gli scarponi eccetera l'abbiamo è stato fatto riutilizzando dei pezzi tipo questi sono lo schienale di uno credo non più che scuola si e l'uso e l'uso e l'uso e l'uso è troppo devi aprire le finestre si bisogna stare con magliette e aprire le finestre anche nel pieno dell'inverno naturalmente se nevica o c'è cattivo tempo bisogna accendere la stufa e si scalda però molto bene e l'uso e l'uso solo nelle giornate fredde quando non c'è il sole fuori quindi nel mezzo dell'inverno accendiamo due ore la mattina e so if the sun is not out you notice esatto esatto so it's important to do this in a place where you get a lot of sun si si decisamente it's cold but it's sunny here molto ma è freddo e ventoso si infatti dicono che anche meno 20 si 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 assolutamente si ma nei fogli che ti ho dato ci sono i grafici della temperatura c'è un giorno ci sono tre giorni in cui fuori è meno 10 e in casa arriva a 16 gradi senza senza riscaldamento se non c'era nessuno in casa senza scuola si venerdì sera siamo arrivati qua era meno due e mezzo credo fuori e in casa c'erano 21 gradi si si perché adesso sembra tutto caldo ma oh si 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 un po' un po' però se tu metti la mano qua e qua c'è differenza adesso qui è più caldo e qui è più freddo anche una si si la forma che il il che ha di lavorare è che ilорismo viene dalla solida a liquida e questo significa che fisicamente cattura energia quando nella notte non c'è il sole è freddo quindi cambia la materia tra il liquido e il solido facendo questo lo lasciano a freddo e lo lasciano a freddo in casa l'USB è usato perché i telai strutturali sono tutti prefabbricati e questa è come costruita la casa questa è la facciata sud vedi che è vuota e qua invece dopo mettevano l'isolamento dentro con l'USB col telaio l'azienda che li fa usano normalmente l'USB perché è una funzione strutturale di stabilizzazione e noi di solito viene poi coperto di solito viene fatta poi un intercapedine ulteriore in cui per esempio girano gli impianti mentre qui gli impianti sono a vista e quindi abbiamo lasciato a vista l'USB che fa anche da barriera al vento all'aria è una ragione di economia anche di costruzione della casa cioè abbiamo risparmiato i soldi di uno strato sostanzialmente infatti vedi che ci sono i chiodi che corrispondono alla struttura qua c'è un montante qua c'è un montante lì c'è un montante cioè qua dietro c'è direttamente l'isolazione l'isolamento tutto legno tutto legno e c'è questa trave qua che c'è anche i piani superiori e quella lì e i solai e tutta la casa è uguale alla facciata ma isolata quindi la differenza tra la facciata e la resta della casa è che c'è l'acqua ma in altre parti c'è l'isolazione e l'OSB esatto molto semplice la performance di wood versus brick and mortar quindi è wood più più rapido capta in sun e facendo una casa perché hai fatto questo in brick o stone se la casa è ston puoi fare lo stesso puoi fare la tua casa devi mettere dell'isolamento dentro perché la pietra non isola non isola la pietra fa massa se prende il sole poi lo rilascia ma è troppo grosso lo fa nell'Italia del sud ma a questo freddo in quelle case lì mai neanche d'estate il sole è sufficiente a scaldare e poi alcuni mobili della casa sono stati costruiti da noi con delle cose di recupero tipo questa parte qua sono cassette del vino e la cucina che si vede anche da qua una sua opera scultore qui c'è la camera che era dei ragazzi e che è sempre più che è un po' tipo rifugio di montagna oh wow so many bunk beds e questa è la camera con il tavolo per studiare per i ragazzi questa sarebbe per salire la scaletta non è molto comoda va giusto bene per i ragazzini io non ci riesco ma salire ma hai la camera però continua qua dietro c'è lo storage il ripostiglio quando i bambini erano piccoli venivano con amici per cui stavano oh that's great e qua c'è tutto l'armadio poi adesso le finestre sono chiuse ma c'è la finestrella anche lì per guardare fuori tre lati isolati un lato che prende il sole poi qua c'è uno studio che è anche camera degli ospiti volendo ecco qua si vede un po' come funziona vedi è solido che diventa liquido e poi torna solido è che non diventa mai liquido completamente esatto e qua c'è uno studiolo che è molto magico diciamo it's difficult to concentrate there if you have a nice view so this is a guest room si studio quando ci sono ospiti per gli ospiti se no lavoriamo qua c'è una scrivania qua e una su e quindi possiamo io in questi anni ho anche spesso lavorato qua per qualche settimana visto che eravamo in lockdown ne ho approfittato io ho dormito qua stanotte non è stato facile trovare un divano letto doppio che stesse in questo spazio qua abbiamo fatto fatica a trovarlo è un po' fragile però funziona bene and then there's even more it keeps going qua c'è un bagno questo è linoleum è un linoleum di diversi colori è fatto con le cassette del vino il mobile questi sono i cosi che tengono le bottiglie e qui si sale nella camera di sopra bagno diciamo fotocopia di quello sotto questa è la camera di sopra l'ultimo piano è il tetto è costruito con un sistema che si chiama bretstappel cioè sono molto semplici sono tante tavole inchiodate l'una all'altra in modo da fare un solaio di legno continuo perché non volevamo usare l'Xlam e strutturalmente un tetto a struttura a telaio non era sufficiente per la neve quindi questo è struttural sì, è struttural wow, perché è molto bene sì, tavole di legno naturalmente e normalmente non lo lasciano a vista però è bello però è bello sì, quello è il balcone che è sopra il bowling è difficile avere un balcone come questo in la città no? non è buono non è buono si vede il tetto quando è possibile a noi piace far vedere la struttura far vedere come è costruito ma spesso non è possibile perché per esempio però per esempio questo legno è meraviglioso abbiamo sbagliato qua bisognava usare delle viti inox e invece sono solo zincate vedi che lasciano un po' il colore la prossima volta inox e queste sono delle lampade che usiamo sempre che sono di origine navale per le navi navi? on the boat ah so you use that because it's functional and strong and yeah 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 resistent e questa è una rete da oh yeah quelle che usano nelle barcavela anche o in tante cose no? sì le tende sono fatte dopo con dei tubi da idraulico this we asked we wanted to do come si dice più inclinato più inclinato più inclinato more like this but but for the rules the stupid rules it was not possible they tell you the roof have to a minimum and the maximum and we want to do more because it works better in the winter noi volevamo fare il tetto più inclinato ma le norme non lo permetteva noi l'abbiamo fatto lo stesso ma ci hanno beccato si dice in italiano ci hanno scoperto allora durante la costruzione abbiamo dovuto cambiare e tornare più indietro perché a noi interessava sia per il sole e anche perché così cadeva meglio la neve in realtà cade benissimo la neve si scioglie subito quindi i pannelli funzionano perché se la neve rimane su poi durante l'inverno i pannelli che non funzionano che è la cosa più stupida questa è la base su cui è costruita la casa questo è cemento basamente sopra da qui parte il legno si vede da qua so that's the only thing that's not wood esatto questo è il basement su questo è costruita la casa infatti ha la stessa forma della casa you see how small the house is the footprint no? it's just tiny yeah it's tiny questa è la macchina della ventilazione meccanica controllata cioè ha un tubo che viene da fuori che prende l'aria da sotto la terrazza gli fa fare un giro sottoterra per cui si pre-riscalda se la terra sotto una certa quota ha una temperatura sempre standard it's geothermal la terra la terra but this is geothermal it goes into the earth non è geotermico il tubo passa sotto sì in qualche modo sì il tubo passa sottoterra fa un giro per cui l'aria che arriva qui è già una temperatura d'inverno più calda e più fresca poi nella macchina c'è uno scambiatore di calore che gli dà con l'acqua prodotta calda prodotta dalla fotovoltaico gli dà la temperatura e poi va nelle stanze e ci sono delle prese d'aria che mandano l'aria e prendono l'aria si chiama ventilazione meccanica controllata che volendo dà un po' di caldo in più in inverno e raffresca e cambia l'aria senza aprire le finestre d'estate poi di qua c'è invece questo qua è l'acqua calda per l'acqua calda sanitaria cioè per fare una doccia c'è una resistenza elettrica che scalda l'acqua che arriva questo è l'inverter dell'impianto fotovoltaico cioè quello che arriva la corrente prodotta dal sole e la scambia e la manda nella rete quando non la usi o la prende dalla rete e come vedete questa parte invece è più chiusa e anche l'acqua non ci sono le cose ma va nel giardino naturalmente ha la gronda e poi la gronda va in un pluviale invece noi non abbiamo l'acqua cade nel giardino poi ci sono delle pietre sotto il tetto della casa vedete che qua tutti i tetti sono costruiti in pietra si chiamano lose so that's a bernaculare è obbligatorio per legge quando noi abbiamo costrutto la casa c'è ancora una norma in cui è obbligatorio fare i tetti con le lose ma tutti i tetti nuovi sono fatti con le lose che vengono dalla Norvegia dalla Grecia a volte dalla Cina questa casa qui è stata costruita dopo la nostra e questa è considerata uno chalet valdostano poi se andate a vedere i seramenti sono in PVC non sono in legno il legno è tutto lamellare mentre il nostro è tutto massello anche quella è prefabricata prefabricata sì sì ma questa casa non ha niente di tradizionale secondo la logica comune per quello che molti la criticano ma il portico l'abbiamo fatto vedendo che le case qui avevano un portico e quindi abbiamo pensato ah può essere intelligente piuttosto che altre cose di questo tipo qua però la casa ha tanto vetro ma perché ha tanto vetro perché serve a riscaldare spesso ci sono edifici pieni di vetro che non servono a niente perché è l'altro modo quello di l'architettura contemporanea che non pensa sempre a queste cose qua grazie a tutti